un giorno 4 settembre la palauca caterina e melania vi fanno vedere la spesa che pagucci provviste 10 cento allora iniziamo sole piatti abbastanza costoso 1,79 eccolo qua santal ananas 2,5 un'altra e su 2 altre 2,5 cioè 2,5 euro poi l'ova fog sono abbastanza grandetti e da legamento a terra sono questi 1,95 euro per 1 però sono grandetti cosa c'è grande sono grandi davvero che sono olio estravergine d'uriva classico estratto a freddo raccolta flogante nell'unione europea quindi non è neanche fatto in italia che io sappia e questo lo troviamo e non è per costi neanche troppo costa 8 euro e 99 poi qui l'ha segnato cavolo cappuccio che non ho preso di 80 me la devi chiamare di migliore poi ancora me l'ha segnato due volte fagioli bollotti e ci siamo eccoli qua fagioli bollotti e spar congelati pesano 450 grammi 2 euro e 30 metri amaretti 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 1 euro e 75 sono buone però la spianata ho già quanto ce n'è qui quante grammi ne è 500 grammi e questa è forse amaretti 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 pane ogiano spianata 2 euro e 79 ce n'è mezzo poi c'è il cavolfiore, il cavolfiore che era abbastanza fresco e al chilo 3,39, no, segniato lì era di me non mi sbaglio mio, non so, ha pesato 1,140 g, è uscito 3,86, bello cariccio, ci aveva il merito che era fresco 3,86 ho detto, poi un etto di mortadella uscita appena di più, a quant'è la mortadella? al chilo, al chilo grame 12,90, uscita 0,144 g, 1,86 g, pane molino bianco, bianco il più morbido, allora questo è 1,55 euro, pomoverini da spalle, sono a 99 però erano un po' di sconto, scontati, 69 centesimi ho preso 5, già le conosco, sono abbastanza buone, sono 3, 4, si vedono, eccoli poi latte fresco e l'arborea, un po' di sconto, sempre abbastanza buono, 1,29 euro, hanno aumentato di 9 centesimi, no va bene poi muller yogurt alla ciliegia 1,39 euro eccolo qua a melania piacinato poi al cocco sempre 1,39 euro concentrato di pomodoro questo quando faccio il riso con la salsiccia ne metto così metterò per fare allora mette 200 di salsiccia tutta sbriciolata cipolla aglio prezzemolo se ho basilico non ci sta bene 200 di salsiccia di sbriciolata e 200 di 200 grammi di riso non lo fate attaccare è buonissimo ve lo consiglio nutriente buono appetitoso provatelo col caffè suerte allora caffè suerte lavazzo mezzo chilo mezzo chilo 4,69 non è che poco è tutto incalito incalito poi lievito vertolini ce ne sono qui quanti gusti ce n'è quattro atti l'ho trovato 4 buste ed è 1 euro e 79 dolce neve pane degli angeli eccolo qua 1,95 due zucchine verdi abbastanza fresche devo dire al chilo sono 2 euro e 69 sono 0,755 hanno pesato e quindi sono usciti 2 euro e 3 centesimi la spesa che oggi abbiamo fatto provvisti perché queste non sono cose che si immaginano in tanti giorni pochi giorni e quindi buona spesa a tutti è stata molto felice abbiamo stampato per la calda estate speriamo i tempi migliori per la natura e questo scorcio che c'è di estate che faccia delle felici giornate che faccio vedere il mare e il lavoro a chi lavora il mare anche augurio a tutti arrivederci alla prossima ciao a presto un bacio 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 a presto un bacio